1-0 in casa contro la neopromossa fermana, anche se al di là del gol grandi emozioni non ce ne sono state. I 3.000 della tribuna hanno fatto la loro parte aspettando pazientemente, fino al 27esimo del secondo tempo. Il primo tiro in porta è di Martiuscello, il portiere a Prea però non trattiene ed ecco che Mastro Lilli, pronto, firma l'1-0. Mastro Lilli, autore di due rating Coppa Italia, è un ex, viene proprio dalla fermana. Altre grandi cose non ci sono state, soprattutto nel primo tempo gli ospiti si sono dimostrati più lucidi e coordinati dei padroni di casa.